Benvenuti e ben ritornati qui nella redazione di Moto.it per un aggiornamento flash, infatti oggi debutta la nuova Moto Guzzi Stelvio. L'attesa Maxi Adventure, la Rihanna, si è mostrata in tutti i suoi dettagli sul sito Moto Guzzi a partire da questa mattina, quindi andiamo un attimino ad analizzare quelli che sono tutti i dettagli appunto della Moto Guzzi Stelvio, una moto che è stata sviluppata a Noale dai tecnici Aprilia ma che verrà costruita interamente a Mandello dell'Ario. Finalmente possiamo mirare queste linee decise, un po' l'avevamo già intraviste dai prototipi pizzicati su strada proprio nella zona di Noale nei mesi scorsi, ora possiamo ammirarla nella versione definitiva, è una moto dal design molto curato, quasi scultoreo, senza però risultare troppo imponente. L'alto parabrezza regolabile lascia presagire una buona protezione aerodinamica, sicuramente indispensabile per una moto nata per viaggiare, che grazie al serbatoio da 21 litri promette un'autonomia di 400 chilometri. Il motore ovviamente è il bicilindrico AV di 90 gradi trasversale che abbiamo già conosciuto sulla V100 Mandello, il compact block da 1042 centimetri cubi, bialbero, quattro valvole per cilindro, ha però un setup specifico che potremo però apprezzare soltanto durante la prova. Vengono dichiarati 115 cavalli e 105 newton metro. Non può mancare ovviamente la trasmissione a cardano con sospensione monobraccio che sono ovviamente una firma di fabbrica. Troviamo cinque riding mode, mentre sulla Mandello sono quattro. Qui troviamo pioggia, turismo, strada, sport e in più rispetto alla Mandello c'è anche off-road. Agiscono sulla curva derogazione, sul controllo di trazione, sul freno motore e sull'ABS. Non c'è una vera modalità custom, ma l'utente può personalizzare, modificare i parametri sostanzialmente di ogni funzione all'interno della singola modalità di guida. E anche questa è una cosa molto interessante. La ciclistica invece è totalmente nuova. Non si tratta dello stesso telaio riadattato della Mandello, ma proprio di un nuovo telaio. Inter Ass è da 1.520 mm e un peso in ordine di marcia che cresce un pochino e arriva a 246 kg. I cerchi sono a raggi, ma di tipo tubeless li avevamo già visti l'anno scorso, quando Moto Guzzi ad Eicba annunciò in qualche modo l'arrivo imminente della Stelvio e vengono confermati misure da 19 e da 17 e dalle immagini deduciamo che montano Michelin Anarchy Adventure. Forcella con steli da 46 mm, totalmente regolabile, così come il monomortizzatore che ha anche il pomello di rinvio per il precarico. Al momento, perlomeno nella versione proposta oggi sul sito Moto Guzzi, non ci sono sospensioni elettroniche, ma è possibile che arrivino in futuro. L'escursione è di 170 mm, quindi un'escursione di compromesso adatta ad un turismo che possa prevedere anche del fuoristrada. La frenata è affidata invece allo stesso impianto della Mandello, quindi impianto Brembo con doppio disco da 320 mm davanti e pinze ad attacco radiale e 4 pistoncini, mentre dietro troviamo disco da 280 mm con pinza flottante a 2 pistoncini. L'ABS è di tipo cornering, è fornito da Continental, ha due livelli e nella modalità off-road è anche disinseribile. La dotazione comprende ovviamente fanaleria full LED, display TFT a colori con connettività Bluetooth e cruise control, mentre il quick shifter, così come le manopole riscaldabili, sono disponibili optional. La Stelvio sfrutta inoltre la tecnologia imaging radar 4D sviluppata da Piaggio Fast Forward, la società specializzata in robotica con sede a Boston e fondata da Piaggio nel 2015. Si tratta quindi di una tecnologia proprietaria e anche questo aspetto non è affatto banale e molto interessante. Saranno inoltre disponibili ovviamente le valigie sia laterali che il bauletto, che sfruttano lo stesso sistema di sgancio brevettato che abbiamo conosciuto sulla Mandello. I volumi sono di 52 litri per il bauletto e di 36 litri per le laterali. Due le colorazioni proposte al momento, un più energetico giallo savano e un più elegante nero vulcano. Il prezzo non è ancora stato comunicato, è in via di definizione, è molto probabile che lo conosceremo proprio ad EICMA, dove la vedremo per la prima volta dal vivo allo stand Moto Guzzi. Non so voi, ma io sono molto curioso di vederla, ma soprattutto di provarla quanto prima. Che cosa ne pensate della nuova Moto Guzzi Stelvio? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale di Moto.it e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri video. Noi ci vediamo alla prossima, magari ci incrociamo proprio ad EICMA allo stand Moto Guzzi. Ciao!